Per il carabiniere del servizio interno dell'Aesi Marco Lazzari e per quello della Ross Cristiano Petrone era zio Totò. Al 60enne Salvatore Rinsivillo i due militari avrebbero passato informazioni riservate per agevolare l'organizzazione mafiosa. Ci sarebbero stati accessi abusivi alle banche dati a disposizione delle forze dell'ordine. Rinsivillo da alcuni anni detenuto al 41 bis è già coinvolto nell'inchiesta antimafia extra fines perché considerato a capo dell'omonima famiglia di Cosa Nostra è stato condannato ieri a 10 anni 8 mesi di reclusione. Il dispositivo è stato letto in aula dai giudici. I PM della DDA di Caltanissetta, Davide Spine e Nadia Caruso al termine della requisitoria avevano chiesto la condanna a 12 anni di detenzione. I due carabinieri sono già stati condannati per questi fatti e a loro volta sono finiti nel vortice della max inchiesta extra fines druso che ha avuto una costola romana. La difesa di Rinsivillo sostenuta dall'avvocato Roberto Afeltra invece ha respinto le contestazioni esponendo le proprie conclusioni. Il legale ha ammesso diversi precedenti di Rinsivillo anche per mafia ma ha escluso che possa mai aver avuto rapporti con esponenti delle forze dell'ordine fino al punto di corromperli per avere informazioni riservate, dati che per l'accusa gli sarebbero serviti per avere maggiori informazioni su alcuni soggetti che avrebbero gravitato nel giro del traffico di droga nel quale lui stesso sarebbe stato coinvolto. In cambio i due militari avrebbero ricevuto somme di denaro anche se pare che i patti non fossero stati del tutto rispettati dal sessantenne Rinsivillo. La difesa anche ripercorrendo il contenuto di pronunce del passato emesse nei confronti dell'imputato ha citato la recente decisione della corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio una sentenza sfavorevole impostagli nel filone romano del procedimento extra fines druso. I giudici di Cassazione hanno escluso il metodo mafioso e l'agevolazione dei clan. Il legale inoltre ha richiamato una decisione del tribunale di sorveglianza romano che sette anni fa negò la pericolosità sociale di Rinsivillo. Per il legale il sessantenne avrebbe preso le distanze dal clan e dalle attività illecite per i PM della DDA di Caltanissette per l'antimafia romana e invece da ritenersi il nuovo capo in grado di avere rapporti anche con esponenti infedeli delle forze dell'ordine. Il collegio penale ieri ha disposto la condanna pronunciata solo pochi minuti prima della lettura del dispositivo del procedimento principale extra fines che ha imposto pesanti verdetti nei confronti dei fratelli della sessantenne degli argastolani Antonio Rinsivillo e Crocifisso Rinsivillo.